Buongiorno ragazze e buongiorno ragazzi. Riprendiamo questa settimana la nostra spiegazione. Ci siamo lasciati con la fine dell'impero romano d'occidente e la deposizione dell'ultimo imperatore, Romolo Augustolo, nel 476. Tutte le insegne dell'impero vengono spostate a Costantinopoli, capitale della parte orientale che rimarrà tale fino al 1453. Vediamo quali sono però i caratteri che contraddistinguono quest'epoca storica. Intanto va ricordato che dopo la deposizione di Romolo Augustolo in Italia il controllo passò a Odoacre, il re degli Eruli. Il 476 è un anno che segna una svolta decisiva nella storia, infatti finisce l'epoca antica, contrassegnata dalla civiltà greco-latina, e inizia una nuova epoca chiamata Medioevo, età di mezzo. È stato appunto il Rinascimento, il periodo storico successivo al Medioevo, ad affibbiargli per primo questa definizione, in quanto gli intellettuali rinascimentali credevano che fra il grande splendore della civiltà classica e lo splendore del Rinascimento ci fossero stati dei secoli oscuri, bui, in cui fondamentalmente l'umanità non era progredita. Quindi il Rinascimento tende a vedere l'età che la precede come un'età di mezzo, solo un'età di passaggio. Tuttavia verrà recuperato lo studio di questo periodo che sarà anche esaltato nel Romanticismo. Infatti il Romanticismo si sviluppa nell'Ottocento e diciamo che la visione di un Medioevo cupo prosegue proprio fino a quest'epoca, fino all'Ottocento. Quando ormai siamo in pieno Romanticismo, quando ogni Stato sta cercando la propria affermazione e la costruzione della propria identità nazionale, in questo periodo è utile guardare al Medioevo come la fonte delle diverse culture che poi si sono sviluppate nelle nazioni. In buona sostanza il Romanticismo si interessa al Medioevo perché capisce che in quella fase ci sono già i germi di quelle che diventeranno le culture di ogni nazione, quelle stesse nazioni che nell'Ottocento cercavano una giustificazione per la propria esistenza. Dunque i Romantici apprezzano anche la cultura e l'arte barbariche proprio perché svincolate dai modelli classici e ritenevano più in grado di rappresentare uno spirito genuino e originario. Ancora, vediamo qual è la visione invece che si ha del Medioevo in età contemporanea. Per quanto riguarda l'inizio del nostro periodo storico ormai tutti gli storici concordano con l'inizio nel 476, con la significativa deposizione dell'ultimo imperatore. Tuttavia per quanto concerne l'altro estremo, ovvero la fine di questo periodo, gli storici danno delle definizioni diverse, tuttavia molto ravvicinate fra loro, quindi non ci creano problemi. Alcuni storici sostengono che la data di fine del Medioevo da preferire sia il 1453, l'anno della caduta dell'impero romano d'Oriente in mano ai turchi. Altri storici invece propendono per la fine nel 1492, ovvero con la scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo e dunque l'apertura del vecchio continente al nuovo mondo. In ogni modo ciò che rende ancora una volta concordi gli studiosi è che questo periodo storico possa essere nettamente diviso, ovviamente per ragioni convenzionali, per nostra comodità di studio, in due periodi. L'anno che sancisce il passaggio da una fase all'altra è l'anno 1000. Vedremo in quest'anno avverranno moltissimi cambiamenti che definiranno in maniera totalmente diversa il Medioevo. Dunque la prima parte del Medioevo, quella che va dal VI secolo fino all'anno 1000, sarà definita Alto Medioevo, dunque il Medioevo più antico. La parte invece che va dall'anno 1000 fino al XV secolo, quindi o alla caduta di Costantinopoli o alla scoperta delle Americhe, è definito Basso Medioevo ed è il Medioevo più vicino a noi, più vicino all'età moderna. Quali sono i fenomeni storici tipici del Medioevo che studieremo e che riscontreremo nelle varie fasi? Intanto l'affermazione di nuovi popoli, lo abbiamo già visto in particolar modo dei franchi, dei normanni e degli slavi. Inoltre questo è il periodo in cui il papato acquista un'importanza ed una centralità politica, quindi anche per quanto concerne le scelte politiche dell'Italia. Nascono in questo periodo le lingue volgari. Il latino, lingua originaria dell'impero, viene lentamente contaminato dalle lingue dei popoli barbari che si stanziano nelle varie regioni. E proprio dalla contaminazione di queste lingue nascono le lingue volgari. In particolar modo le lingue che discendono dal latino e che sono dunque imparentate con il latino sono ovviamente l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il rumeno. Quali caratteri invece il Medioevo eredita dalla crisi precedente, quella della tarda antichità? Sicuramente eredita la progressiva affermazione del cristianesimo, in particolar modo in Europa. Eredita l'impoverimento delle campagne che era già in atto dal secondo secolo e non si arresta e soprattutto eredita una crisi economica. Ovviamente noi cominceremo a studiare il Medioevo partendo dalla fase più antica, dunque dall'Alto Medioevo, che sarà caratterizzato nei suoi secoli che vanno dal VI al X all'anno 1000, da una crisi economica. Vedremo le condizioni cambieranno nell'anno 1000, dunque questa crisi verrà meno. Ma per tutto l'Alto Medioevo la nostra popolazione europea dovette andare incontro ad un importante calo demografico, causato ovviamente dalle invasioni barbariche, dalle guerre, dalle pestilenze e dalle carestie. Le città divennero sempre più piccole in dimensioni ma anche in popolazione, si spopolarono. In generale le comunicazioni divennero più difficili perché non c'era più cura delle infrastrutture o delle strade. Dunque tra l'VIII e il IX secolo basterà ricordare che l'intera popolazione europea ha montava 30 milioni di abitanti, una cifra davvero irrisoria se confrontata per esempio alla popolazione italiana del 2020. Siamo all'incirca 60-66 milioni, quindi l'intera Europa era abitata dalla metà dell'attuale popolazione italiana. Dunque dovete immaginare uno scenario davvero apocalittico, gli edifici che vengono abbandonati addirittura vengono distrutti per poterne ricavare materiale utili all'edificazione di altri edifici. Delle città si trasformarono in veri e propri centri fantasma. Non bisogna dimenticare che durante il Medioevo ci furono due civiltà che prosperarono, la civiltà araba e la civiltà bizantina, che in un certo modo contribuirono al decadimento del ruolo politico dell'Italia e misero fine alla centralità del Mediterraneo, spostando invece il baricentro ad Oriente. Vediamo quali altri caratteri contraddistinguono l'alto Medioevo. Gli effetti della crisi infatti non si fecero sentire solamente in città ma anche nelle campagne dove molte terre rimasero incolte e dove cominciò a diffondersi la malaria, una malattia che vedremo contraddistinguerà l'intero Medioevo. I boschi non vennero più curati, dunque tornarono ad invadere le campagne, non c'era manutenzione. Lo stesso bosco, la foresta, divennero dei luoghi ricchi di pericoli reali o immaginari. Nei boschi infatti si appostava la maggior parte dei banditi che prendeva di mira le carovane in viaggio. Dunque, la civiltà medievale è stata definita dagli storici anche civiltà del legno, in quanto questo era la materia prima per la costruzione di case, attrezzi, soprattutto come fonte d'energia. I boschi inoltri erano ricchi di cacciagione e di ghiande utili per allevare i maiali. Gli stagni e i laghi permettevano la pesca, dunque diciamo che gli abitanti dell'alto Medioevo, pur trovandosi a vivere una crisi economica sempre più acuta, cercavano in qualche modo di sopperire attraverso queste attività. Proseguiamo nell'osservazione della crisi economica perché questa fece sì che si creasse un'economia di sussistenza, cioè in poche parole, i pochi diciamo gli abitanti della nostra Europa praticavano un'economia che fosse loro sufficiente a sopravvivere. Non c'era più come obiettivo il commercio dopo la produzione, ma solo la sussistenza, la sopravvivenza. Dunque le persone che potevano dedicarsi ad attività diverse dall'agricoltura, erano sempre meno e i pochi artigiani che continuavano a praticare la professione erano costretti a fabbricare manufatti per le necessità locali, lì dove vivevano. Ogni comunità tendeva dunque all'autarchia, ovvero all'autosufficienza economica, senza doverla importare da altri. Questo ovviamente fece entrare in crisi i commerci perché non c'era più una sovrapproduzione da dover commerciare, si produceva il necessario per vivere. A partire dal VII secolo c'è da dire che gli arabi cominciarono a impadronirsi delle coste del Mediterraneo orientale, rendendo dunque ancora più difficile il commercio in quell'area, come se non bastasse. Dunque gli storici definiscono l'Europa dell'Alto Medioevo un continente senza mare. Non dimentichiamoci che, come in ogni periodo storico, anche nel Medioevo continuò invece il commercio di lusso, che trasportava in Europa merci preziose provenienti prevalentemente dai mercati bizantini. Vediamo ora la nuova cellula organizzativa della vita del Medioevo. Il centro delle attività, lo abbiamo detto, si spostò dalla città alla campagna. Il nucleo in cui veniva prodotto fattualmente qualcosa in cui si lavorava era l'azienda agricola, definita Curtis. Mano a mano nel corso dell'Alto Medioevo si afferma il latifondo, ovvero dei grandi proprietari possedevano degli appezzamenti di terreno molto vasti che suddividevano in appezzamenti più piccoli e affittavano. Dunque, questo sistema si afferma, quello della di fondo, è quello curtenze. In poche parole, i piccoli proprietari terrieri, e lo vedremo nella prossima lezione, cominciarono a chiedere la protezione dei grandi proprietari, dei grandi signori, dei latifondisti, per ottenere la loro protezione, cedevano le loro terre a quel signore. A quel punto, per poterle lavorare, le dovevano riprendere in affitto dal signore, ma questi a quel punto gli garantiva protezione assoluta contro qualsiasi minaccia. Ma lo vedremo nella prossima lezione. Buono studio.